Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Axis and Allies, sono contentissimo di portarlo sul canale perché è un gioco che mi interessava veramente da morire da una vita intera, nella versione 1941, che è una specie di versione non dimostrativa perché non è, comunque ridotta e se non erro il gioco normale dovrebbe venire tipo, a parte che è abbastanza fuori produzione, comunque si trova ancora qualcosa, dovrebbe venire intorno ai 50-60€, mentre questa edizione qui viene 25-30€, insomma costa veramente poco perché c'è meno materiale all'interno, le regole sono state un po' semplificate, però il gioco fondamentalmente è sempre lo stesso e se vi ricordate vi ho già portato la variante, che vi metto con la nota a video, la variante gioco per computer, versione videoludica Axis and Allies Online, che vi consiglio di andare a provare perché è una figata unica ed è la trasposizione perfetta del gioco da tavolo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Axis and Allies è un gioco storico che va avanti da almeno 30 anni, se non qualcosa di più, ed è un gioco che ha avuto tantissime espansioni anche perché, ha avuto anche un'espansione sci-fi con gli zombie, bellissimo, anche perché parlando del panorama seconda guerra mondiale c'è tante cose da narrare, c'è il gioco base che prendeva la guerra mondiale, poi magari ce n'era un ambientato nella guerra del Pacifico, il Giappone, oppure qualcos'altro che riprendeva lo sbarco in Normandia e l'operazione Overlord e invece questa volta siamo nell'Early War, nel 41, e giochiamo una prima parte della guerra in questa edizione, come vi ho detto, economica. Di differenza rispetto al gioco normale ha meno miniature all'interno e il tabellone ha già le fabbriche sopra, quindi anche le fabbriche non si possono, in questa edizione, andare a costruire dove vogliamo, ma si possono andare a costruire soltanto in quelle regioni, in quelle zone dove c'è il simbolo di una fabbrica. Se su Berlino c'è il simbolo, ad esempio, di una fabbrica, ce la potete costruire, se su Monaco, ad esempio, non c'è, non ci potrete fare fabbriche. E il funzionamento del gioco è veramente semplicissimo ed è un gioco che nasce dal risico. Ragazzi, è Risico Plus, con qualche regola in più, questa versione qui, 1941, è anche semplificata come regole, però è uno dei giochi veramente più facili del mondo e ho visto gente che ha tutte le espansioni uscite finora ed è veramente bellissimo perché introducano, che già ci sono, però danno molta più importanza in regola alle corazzate, ad esempio anche all'unità di terra, ai bombardieri, ai sottomarini. Se adorate il secondo conflitto mondiale, questo gioco, secondo me, è il meglio per rappresentarlo sul campo. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione bella grande, anche perché è piena zeppa di contenuti, miniature, che tra l'altro sono piccoline, però secondo me si dipingono anche bene, veramente carine, per quanto forse è più bello vederle così plasticose, ricordano molto il risico e ci rimandano un po' alla nostra infanzia. E vedete i leader principali, o comunque i primi ministri e cose del genere, delle principali potenze della Seconda Guerra Mondiale e addirittura gioco 12 anni o più. Cioè è un gioco veramente alla portata di tutti, strategicamente complesso, ma a livello di regole, una baggianata, cioè il risico. Apriamo. All'interno abbiamo il regolamento, che è veramente facilissimo, ci fa vedere tutta quanta la mappa del mondo, contenuti vari, azioni che si possono fare. Il gioco è in inglese, quindi una traduzione si trova sicuramente su anche i pensotana di goblin, cose del genere, si trovano, localizzazione in italiano, però comunque le regole di base, il regolamento è in inglese. Poi, facilissimo, abbiamo tutti quanti i token, qui rappresentati che sono per le varie nazioni in guerra, che sono ovviamente il Giappone, per le forze dell'asse sono Giappone e Germania, l'Italia non c'è almeno in questa edizione qui, poi abbiamo la Russia, gli Stati Uniti e l'Inghilterra e vari misuratori, questo qui è per farvi vedere la forza delle truppe, come vedete ad esempio la fanteria colpisce con l'1 almeno, ad esempio i sottomarini e i destroyer colpiscono con il 2 almeno, insomma qui è per farvi vedere quali sono le truppe, i valori che hanno sul campo di battaglia, poi una bella mappa che ora vi faccio vedere a modino aperta e miniature che in queste bustine qua giù dentro ci rimandano veramente, ci rimandano ai soldatini e ci abbiamo tutto quanto, le truppe di fanteria, abbiamo le navi, abbiamo i sottomarini e abbiamo poi anche i carri armati. Come vi dicevo, vi consiglio, tanto costa poco, lo trovate anche su Steam, di acquistare anche la versione Axis and Allies Online, anche se non siete giocatori di computer e magari non lo giocherete mai, ma perché c'è un tutorial talmente ben fatto che vi consente praticamente di non andarvi a leggere manco il regolamento, quindi io ho imparato a giocare, me lo sono riletto, ma ho imparato a giocare con la versione per computer, tanto per dare un consiglio. Comunque il regolamento è semplicissimo ed è tipo risico. Abbiamo la mappa del mondo e il nostro turno è diviso in 5 fasi che vi ho già elencato, vi ricordate, nel video precedente, quindi non le sto a ripetere. Comunque le fasi sono quelle, fasi di costruzione, quindi dove si va nelle fabbriche a costruire il nostro esercito, ogni truppa ha un costo, quindi le truppe normali di fanteria costano un tot, i carri armati costano un tot, le corazzate sicuramente di più e così via, per poi dopo andare a fare la fase di combattimento. Quindi spostamenti solo per attaccare, quindi non mi posso spostare dentro una mia regione o verso una regione alleata, perché è una mossa che potrò fare dopo, ma posso soltanto fare azioni di guerra, quindi muovere una mia miniatura nel territorio di un altro e andarla ad attaccare, quindi solo mosse a livello di battaglia. Nella terza fase si risolvano le battaglie, quindi si vanno a fare, si vanno a tirare dadi, e le regole sono semplici, che ne so, la fanteria colpisce col dado da 6 con l'uno solo. Magari i carri armati o i cacciabombardieri colpiscono col 3 o meno. Si va a tirare il dado, ho fatto 3, sì, ho fatto una ferita, a seconda anche del livello di attacco che hanno, potrebbero farne di più. Poi quell'altro va a tirare, ho fatto con la fanteria 1, ok, ho subito la ferita, la fanteria è ben morta, però ti ho fatto una ferita indietro. È un gioco veramente semplicissimo. Nella fase dopo abbiamo la fase di mobilitazione, non di guerra, quindi a differenza della fase di attacco bisogna muovere le truppe in giro per il mondo senza entrare in territori dove ci sarebbe per forza da fare un conflitto. E la fase finale, quella più importante, la mobilizzazione, dove le truppe che abbiamo comprato le possiamo andare a disporre sul campo solo dove abbiamo le fabbriche. Non le potete mettere dove vi pare, ma ad esempio le possiamo mettere, se in quel momento lì c'è da, non lo so, mi viene in mente, operazione Barbarossa, le metteremo sicuramente per fare l'avanzata in Russia, le metteremo in un preciso punto che ci dia supporto, un po' come il risico, alle truppe che hanno bisogno di andare a fare guerra a una precisa nazione, quindi in un panorama bellico e che vadano a dare supporto. Quindi non è vero da una parte che vince soltanto il numero perché vincono anche le strategie, però in questo gioco qui, un po' come il risico, è normale. Se c'è più truppe tiri più dadi. Per quanto me è successo di avere quattro carri armati, quattro carri armati e sono tutti uguali, contro uno, e di perdere perché non riuscivo mai a colpire invece che l'altro riusciva sempre a colpire me e ho perso la partita. Quattro carri armati contro uno, si vede che da quell'altra parte c'era Wittmann. Boh, ci sta. In conclusione, Axis and Allies è un gioco che io la prima volta che l'ho visto di tanta gente, perché l'ho letto anche che chiedono informazioni su Facebook o comunque pagine social del genere, si mettono paura e che dicono mi sembra un gioco troppo complicato. Ragazzi, veramente, è il risico con un più accanto, è il risico di partenza. Ovvio, c'ha delle regole in più, più raffinate e tutto quanto, e questa versione 1941 economica è anche semplificata. Però anche il gioco normale è veramente una bagianata. È facile, occhio, come tattiche è complesso, ma complesso non difficile come regole, è complesso perché dovete essere voi un grande generale, sapere come muovere le truppe, è inutile mettere dieci truppe, prendere tutto quanto un fronte, ma ho lasciato scoperto il Giappone, ho lasciato scoperto l'Africa del Nord e me l'hanno conquistata. E perdete. Perché in questo gioco si vince conquistando top capitali. Quindi, che ne so, il primo che arriva a conquistare nove capitali o nove città di interesse ha vinto la guerra. Quindi c'è da starci attenti. Come tempi si va sulle due, tre ore questa versione qui, che hanno ridotto anche un po', hanno facilizzato e tutto quanto, hanno facilitato il lavoro di muovere truppe e comprarle, nella versione di base si andava anche verso le sette, otto ore. Quindi servivano veramente più di un giorno di salvare la partita. Questa è un pochino più, più veloce. Però il funzionamento è sempre lo stesso. Bellissimo. Se cercate un gioco nella seconda guerra mondiale, io vi sfido. Più bello ovviamente strategico e tattico, non d'azione. Non ne troverete, meglio di questo qui. Controllate anche la versione online e se questo volete ordinarlo, dal primo link in descrizione. E in sua impressione, dalla Giocolibreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate in lista, ma è finito o non lo trovate, scrivete al supporto, accorrade e diteli, questo gioco l'è finito oppure non c'è. Ma si potrebbe comunque ordinare? Ditegli che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan e farà il possibile per trovarvelo. Usate sempre per tutti gli acquisti, non solo giochi, anche colori, pennelli ed altro. Il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro, spese postali e corriere in 48 ore, gratuite in tutta Europa, quindi anche fuori Italia, per qualcuno che me l'aveva chiesto. Dateci un occhio che è veramente interessante. Ragazzi, il gioco è uno spettacolo, non ho passato appena i voti, bellissimo per me. È veramente un capolavoro che non ha tempo e mano a mano che rifanno le varie edizioni è sempre più bello e troverete anche l'edizione che fa per voi. Perché se a voi del panorama della guerra mondiale non ve ne frega niente, compratevi Operazione Overlord che riguarda soltanto la Francia, la Normandia, quella parte là. Oppure prendetevi la Guerra del Pacifico che riprende soltanto le isole del Pacifico. Quindi fondamentalmente c'è la scatola per tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!